Sono un trader sistematico, quindi lavoro principalmente con dei trading system, su futures, su opzioni, un po' il mondo valutario, quindi lavoro in maniera meccanica seguendo dei sistemi, infatti sono qua oggi col telefono acceso per aspettare qualche ding, qualche ingresso in posizione, per essere qua presente con tutti. È una manifestazione molto riuscita, è la prima volta che vengo a investire in Napoli, non mi aspettavo tanta gente, è pieno, veramente pieno, quindi devo dire complimenti a Pietro che sta facendo un ottimo lavoro qua fra Roma e Napoli.